Il mondo della collezione è sicuramente la giacca, la giacca è un prodotto italiano, è una caratteristica nostra, la nostra azienda nella giacca crede molto, perché ritorna secondo me un uomo anche abbastanza raffinato, ma un uomo anche che vuole divertirsi e quindi eccedere anche in alcuni criteri proprio della giacca, avere una giacca un pochino più evidente. I colori sono diversi, perché esiste il colore e esistono i non colori, sicuramente il blu denim è un non colore, è una tendenza importante, tagliato con il colore ci sono diverse texture, diverse stampe da mischiare, quindi anche accostamenti a volte non facili. C'è un capo che rappresenta abbastanza il punto, che è questo capo qui, che è una giacca con un crepe di cotone, quindi anche un materiale importante, un doppio petto abbastanza evidente, quindi un quadro in overcheck che è messo con una camicia che è appunto in fil coupé con il collo in chambri, quindi l'idea è proprio anche di divertirsi con una giacca che nasce criterialmente seria. L'uomo si sta secondo me cercando di conoscersi anche con l'abbigliamento, non solo con l'aspetto caratteriale e dà all'abbigliamento un'importanza come ad altre cose seria e si è cambiato molto, c'è molta attenzione a curare l'uomo in tutti i suoi dettagli, dai volumi, dalle leggerezze, da tanti aspetti che lo rendono però visibilmente più interessante. Oggi un uomo può essere diverso dalla mattina alla notte come lo è una donna, quindi lo trovi in ufficio, non sai chi è, lo ritrovi la sera, potresti trovare un'altra persona, quindi aumenta la cultura dell'analisi, quindi l'idea secondo me è fare delle collezioni interessanti, alti di criterio a un costo contenuto. Grazie a tutti!